E' il salavo, solo fatti lascerò, solo l'alto rosso nero, da lì non vorrino. E' ale, ale, milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. E' ale, 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 milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. E' ale, 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 milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Oh lele, oh la la, rosso nero, magico il Milano, oh lele, oh la la, rosso nero, magico il Milano, oh lele, oh la la, rosso nero, magico il Milano, oh lele, oh la la, rosso nero, magico il Milano. Ehi ragazzi, ali, 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 ragazzi, ali, ali Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo Il Tringa è sempre presente, iscrivetevi al canale Campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video Pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo In descrizione vi lascio il link Maglie Calcio Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco Usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine I pagamenti sono alla consegna Solo per l'Italia è pagamento della consegna Per l'estero è pagamento anticipato Ragazzi, iscrivetevi a sto benedetto canale di Self Control Il nuovo canale Self Sport Iscrivetevi, andatevi ad iscrivere È un bel canale ragazzi, è bello veramente Allora ragazzi, come abbiamo visto tutti ieri sera la Nazionale ha vinto È stato bello, soprattutto è stato bello per Chico, Chico e Vani Un Chico e Vani che abbiamo visto molto commosso Bellissimo, bellissima scena, bellissima la conferenza di Chico e Vani È bello vedere che un po' di milanismo entra in Nazionale in questa maniera Veramente, ieri sera sono stato contento di aver visto la Nazionale perché Non lo so, ieri sera ho sentito un presentimento che sarebbe stata intanto una bellissima partita Perché la Nazionale veramente ha giocato bene ieri sera, mi è piaciuta E poi ragazzi, Chico e Vani è la storia del Milan Chico e Vani ci ha fatto portare a casa una Coppa Intercontinentale stupenda Stupenda contro il Nazionale dei Medellin Quindi Chico, cuore rosso-nero, grandissimo Ora veniamo un po' alla nostra squadra del cuore Al nostro grande Milan Allora ragazzi, è un periodo in cui si fanno tante statistiche Si parla di tanti numeri e tante cagate Cose che a me sinceramente interessano veramente, veramente poco Perché a me quanti assist fai in una stagione Quanti gol fai in una stagione a parte Ibrahim Sinceramente mi interessa veramente poco Mi interessa veramente poco a me quello che fa il giocatore singolo al Milan A me interessa veramente quello che sta dimostrando la squadra E la squadra fino a oggi sta dimostrando di essere Forse la migliore del campionato Tanto per cominciare stiamo dimostrando di essere i migliori Per quanto riguarda i punteggi Perché il nostro punteggio lo dice, siamo i numeri uno Ma più che altro mi piace questo Milan Per quello che sta facendo vedere sul campo Per l'atteggiamento dimostrato fino a qui E non solo in questa stagione Per l'atteggiamento La voglia di giocare Perché è una squadra che ha sempre voglia di fare la partita A parte Forse dal 2020 ad oggi è successo due volte Che il Milan si è sceso in campo Con l'atteggiamento sbagliato e non riuscendo a fare la partita Perché nel 2020 In tutto il 2020 il Milan è sceso in campo Con un atteggiamento e una mentalità Che assolutamente ci può portare A fare qualcosa di straordinario Quest'anno Io adesso ragazzi non so Se veramente potremmo riuscire a vincere il campionato Perché Chiaramente tutte le squadre Che fino ad oggi Hanno perso un po' di terreno Rientreranno Rientreranno Quindi sarà tutto Starà a noi Starà a noi veramente Dimostrare Dimostrare e far vedere a tutti Che il grande Milan sta tornando Adesso quest'anno Il bello di questo Milan Sapete qual è Non porsi degli obiettivi Perché nessuno di noi si deve porre degli obiettivi Il nostro obiettivo di oggi Non è vincere il campionato È cercare di arrivare a un piazzamento Per la Champions League Però poi da questo A dire che il Milan Debba porsi dei limiti È sbagliatissimo Perché il Milan non deve porsi dei limiti Il Milan è una squadra Che quest'anno può fare benissimo E potrebbe veramente Veramente Fare il colpaccio Quindi quando sento gente dire Ah ma il campionato Noi non possiamo vincerlo Sbagliatissimo Sbagliatissimo Non è l'atteggiamento da tifoso Perché il tifoso del Milan Deve partire sempre per vincere Il campionato Poi può anche non succedere Ma anche nel Io ricordo anche negli anni In cui arrivavamo settimi Ottavi Siamo arrivati anche undicesimi Io sono tifoso del Milan E secondo me la mia squadra È sempre la più forte Anche quando fa vedere di non esserlo Quindi Per me si parte sempre per vincere Poi se non succede va bene lo stesso Però si parte sempre per vincere E soprattutto ragazzi Ricordatevi Che l'amore per la maglia Perché forse qualcuno di voi Se lo sta dimenticando Continua a sentire parlare di Cialanoglu Continua a sentire parlare di tante cose A me dei giocatori ragazzi Veramente Mi interessa veramente poco E quando leggo i vostri commenti Capisco Che tanti di voi Sono più legati ai giocatori E meno legati ai nostri colori Ragazzi Un tifoso Io parlo per me Che sono sempre stato in curva Difficilmente Sono andato in altri settori Dello stadio Se l'ho fatto Sono andato al primo anello blu Che comunque era parte integrante Della curva sud E praticamente Cioè Per noi Per noi Che tifosi Di un certo Di un certo tipo Ma non tu Anche in curva Poi ci sono altri elementi Però Ci sono delle persone Tra di noi Che mettono sempre davanti a tutto I colori I colori Che sono quelli della maglia Sono quelli del Milan E quelli dello striscione Perché ancora prima Della maglia del Milan Viene uno striscione Per Una persona Che frequenta la curva sud In una certa maniera Ancora prima Del Milan Viene il proprio striscione Questo forse è un discorso Che non tutti possono capire Ma È questo Questo vuol dire Far parte di un gruppo Che frequenta La curva sud E che Ha come squadra Del cuore Il Milan Però Il Milan ragazzi Ha È È Dei colori Il Milan Non è dei giocatori Il Milan è una squadra Il Milan è dei tifosi I giocatori del Milan Vengono Vanno Sono passati dal Milan Grandissimi campioni E se ne sono andati Grandissimi campioni Oggi vedo Tante persone Farsi Strapparsi i capelli Per Accancio La Noglu Ragazzi Accancio La Noglu Sta scegliendo La sua strada E se la sua strada Non sarà Insieme al Milan Rimarrà un grande giocatore Rimarrà un ottimo giocatore Ma non sarà Un cuore rosso nero E quando non sei Un cuore rosso nero Per me Al Milan Non ci devi stare Niente ragazzi Chiudiamo questo video Un video Tranquillo Perché comunque ragazzi C'è poco da dire C'è poco da dire In questi giorni Si aspetta il rientro Dei nazionali Adesso piano piano La spicciolata Rientreranno tutti E niente Bonera Zlatan Ibrahimovic Perché ci saranno In campo Come allenatori Due Saranno in due Bonera in panchina E Zlatan Ibrahimovic Che dovrà Sobbarcarsi ancora Forse più responsabilità Rispetto al solito Perché in panchina Non ci sarà L'allenatore Che riesce A dare la carica Ai ragazzi Anche se Bonera È un ragazzo Rispettabilissimo Ve lo posso assicurare Quindi Zlatan Avrà sulle spalle Anche il peso Di dover caricare I ragazzi Nella maniera giusta Quindi ragazzi Sentiamoci più tardi Stasera Come avete visto In community Ho già messo La locandina Per Passione Mina La seconda puntata Che ci sarà stasera Dove ci saremo Io Alessio Lo zio Peter E due persone di voi Che ho già scelto Dopo comunicherò Alle persone Chi ci sarà E niente Inizieremo alle 21.30 Vi voglio bene a tutti Sempre forza Vecchio cuore Rosso nero Ciao ragazzi Dove ci sarà Vi ricordo Diciamo Diciamo Vecchio cuore Il Corazzo Ciao ragazzi